Ragazzi, abbiamo una bellissima notizia! I me contro te non chiudono il canale! Abbiamo scoperto del perché di quest'immagine con un teschio, ed anzi, molte persone nei commenti hanno scritto anche la risposta giusta. Ebbene sì, il 28 giugno i me contro te non chiuderanno il canale, per fortuna, ma uscirà una nuova canzone dei pirati! Come faccio ad averne la conferma? Ve lo faccio vedere! I me contro te, nel video di ieri, cioè quello dove giocano con i gonfiabili insieme ai loro amici, e ad un certo punto, Sofì, ci dice appunto che uscirà la nuova canzone estiva dei pirati. Preparatevi perché tra esattamente una settimana, dieci giorni, uscirà la nostra canzone dell'estate! La canzone estiva del pirata! Se avete ascoltato la canzone del cowboy, beh, la canzone del pirata la amerete! L'anno scorso la, diciamo, la loro canzone estiva è stata la canzone del cowboy, anzi, in realtà, anche Shikamala, perché anche quella è uscita d'estate il primo agosto, quindi anche quella, diciamo, era una loro, diciamo, canzone estiva. Però, diciamo, la loro canzone che ha dato, diciamo, inizio all'estate è stata la canzone del cowboy, uscita il 2 giugno dell'anno scorso, che molti di noi hanno ballato tutto il tempo. E quindi, ragazzi, quel simbolo, ce l'ha detto proprio Sofì, non riguarda nulla del signore S, di Hacker, oppure della chiusura del canale, ma riguarda semplicemente la nuova canzone che uscirà il 28 giugno. Sui pirati, non vedo l'ora di ascoltarla. E voi? Scrivetelo qua sotto nei commenti!